il conto per favore Allora abbiamo due ricadoni, uno zuppone, due porzioni di abbacchio, una porpetta, mezzo vino Buonasera Buonasera architetto E' da minotto, c'è posto? Per lei sempre dottore Uniamo sti due tavoli Io ci vengo spessissimo Costico ma genuino Vedrai come si mangia mia cara Qui si ritrovano antichi sapori che sembravano dimenticati Così sono le piole su da noi Oh it's wonderful, è lei? Mi piace? Sono già venuto qui con l'amico Indro Montanelli l'ultima volta che è venuto a Roma Ah, con Indro? Come no, ha detto che ci scriverà un articolo Con quella pena può scrivere quello che vuole Ah no, neppure il tu l'hai I'll be in New York next week for today You'd like my little dog, avvocato? Mariana Grazie Ecco gli ordini architetto, che gli facciamo stasera? Per cominciare direi il zuppone alla porcara per tutti Otto porcare speciale E vino della casa Quanto è il zuppone alla porcara? Un minestrone assai sofisticato ma delicato Da cucina Ma vada via al cuore Vada via al cuore Vada via al cuore Cazzo Se tuo padre è morto Vada via al cuore Non sciupate la roba Cazzo Che insiste pure Ma che te devo fai Io te faccio vedere i gocci Cazzo Bellissimo! Calma, come fai! Accuschi, carichissimi! Oh, Cristo! Cazzo! 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 Faccia diventa il globo delle roda e le dame! E ti abisci non c'è! Come è che ti abisci non c'è? Ah! 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 Vai a un pezzo! Sì! 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 What happened? Che succede? I don't know! Che succede? Il battuto! Fanno ancora il battuto per il soffritto come la mia povera mamma! C'è il strango! Cune le tarcicce! Facciussi alla donzilla! E come dei croppi! Sì! Dammi! Io facciussi alla pagliata, mica, no? Eh! E io ti dico una di quelle robe che vada via anche! Io ti metto un dito in bocca! Un inculo me ti porta in giro con un manicotto! Ma sì! Allora sai io cosa faccio col manicotto? Sì! Ma vada via il chi va! Pace! Pace! Il tacchino! Stanno ammazzando il tacchino ruspante! Qui preparano tutto al momento! Stacco la cervicola! La rendi? La rendi, eh! Oddio! 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 schifo. E via. Non è che l'è. Perché c'è una sporcazione. Sotto è cattivo. Ah, sono cattivo io? Sì. Eh, te sei cattivo. No, sei te che non me vuoi bene. Sì, no, non te voglio bene. Me ne volessi te il bene come te ne voglio io. Ah, perché io non te voglio bene? Diggialo tu. Voglio più bene io a lui o lui a me. Allora, affanculo. Vediamo se gli clienti aspettano. Eh, ecco il sugo. Mettile meglio, ste goncoline, mannaggia. Beh? Che c'è? Si va via così. Eccolo! Finalmente, ho una fame dell'uva. Che bontà, che bontà. I hold my mouth out, please. Quanto formaggio? Sì, quanto formaggio? Buono, io qua ci ritorno, eh. Ecco lei. È un po' caro, ma ne vale la pena. Questo chi sarà? Non si chiedono i segreti del cuoco. La fine del muoco. Voi negli stessi non mettete dei ristoranti così anche? Tocca, ci mettono anche l'uva? You eat well, Nellino. Per secondo cosa abbiamo? Ascolta, Ligo. Olimo strascinale. Cercetti e retrippa. Oligo alla scalpara. Sercissi e frangolate. E attento che c'è una mosca, non so come entrare. In guacchietto di spinaci. Polpette col sugo maridato. Fagioli alla porcareccia. Baccala alla sdrucita. Ci abbiamo tutto. Ognio fa un bel mixtio misto. Faccio io. Ben tirato.